. Benvenuti amico alle ultime notizie di oggi.Continuano a nascere nuove attriti al Grande Fratello 2023 e il clima all'interno dello spiato appartamento di Cinecittà si fa sempre più teso E mai quanto in queste ultime ore, da quando Beatrice Luzzi ha dovuto assentarsi dallo show Colpo di scena, Perla Vatiero se l'è presa con Letizia Petris, centra Greta Rossetti Già da prima e soprattutto da quando Mirko Brunetti è stato eliminato dal Grande Fratello 2023, i fan non gli hanno perdonato la poca chiarezza sulle ex, Perla Vatiero e Greta Rossetti sono andate d'accordo e la loro scelta è piaciuta al pubblico . Grande Fratello, pace finita tra Perla e Greta.Per i telespettatori dalla memoria di ferro del Grande Fratello 2023, sempre pronti a scovare interessanti ed utili dettagli nel corso della della diretta di media sete extra, ricorderanno quando, prima dell'entrata di Perla Vatiero e Greta Rossetti, Letizia Petris si schierò dalla parte dell'ultima Poi però la amicizia con l'ex storica di Mirko Brunetti, una volta diventata una geffina, è cresciuta di più rispetto a quella con l'altra Galeotta fu una semplicissima gentilezza, un gesto di amicizia e solidarietà da parte di Greta Rossetti in queste ore avrebbe fatto infuriare Perla Vatiero L'ex tentatrice ha prestato un vestito a Letizia Petris e a quanto pare l'altra non avrebbe apprezzato. Da lì una scena di gelosia che ha generato una reazione tra i fan su Twitter C'è chi ci crede e chi dice stesse solo scherzando. Dice tanto di essere matura e che Gre è una bambina e guarda che scena ha fatto ora, ma è impazzita? L'ironia la conoscete, però fatemi capire, quando si sarebbe arrabbiata? Siete pazzi, scrivono diversi di loro, dividendosi tra le due ipotesi Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video